Ricordo di Maurizio Gazzanzo. Maurizio ha insegnato a milioni di persone che bisogna cercare di scoprire quello che c'è dietro l'angolo, come lui diceva 50 anni fa. La vita riserva a ciascuno di noi qualcosa che se crediamo sia una strada lineare, sbagliamo. La vita riserva sorprese, novità, dolori, sofferenze e merita di essere esplorata. Lui ha aiutato milioni di italiani a esplorarla con il suo modo spiritoso, sobrio, curioso di capire cosa c'è attorno a noi.